Siamo al Palenzi al termine dell'allenamento con lo scacciatore Alessandro Preti. Alessandro, sabato possiamo definirla una gara da in o out, come la affronterete psicologicamente? Allora, quello che ci siamo detti in inizio settimana è che questo sarà un periodo di tre partite dove ogni partita è un mini challenge, cioè deve essere una sfida come fosse quasi un play-off e abbiamo queste tre partite per riuscire a tirarsi fuori da una situazione complicata. Sono quattro squadre che sono in questa condizione come noi, però sono fiducioso perché il lavoro che stiamo facendo in palestra la squadra è unita, la squadra spinge, da tutti, dagli allenatori e giocatori stiamo dando tutti il 100%. Ravenna è una squadra da primi posti in classifica, cosa ti metti di più del loro gioco? Ravenna in questi anni ha dimostrato sempre una grande organizzazione, soprattutto un muro difesa, è una squadra con la quale non è facile fare il primo cambio palla e questo è quello su cui sei concentrato anche il lavoro nostro in settimana. e quindi magari se la prima palla non va giù, giocare anche noi la fase muro difesa e poi riprovarci. Insomma questa è una cosa temibile, sono giovani, però giovani di buone prospettive, abbiamo Orioli, Bovolenta, tutta gente che comunque sicuramente ne sentiremo parlare anche nei prossimi anni. Siamo con il libero Ernesto Torchia. Ernesto, sabato a match con Ravenna, anche loro arrivano da un periodo di sconfitte. Che gara si prospetta? Sicuramente sarà una partita tosta come lo sono state tutte queste partite quest'anno. Ovviamente Ravenna è una squadra con dei buoni, buonissimi giocatori, però non viene da un periodo molto roseo. Noi neanche sarà secondo me la partita fondamentale per appunto riscattarci. Cosa metterete in campo non solo tecnicamente ma anche moralmente per guadagnare dei punti fondamentali? Moralmente metteremo sicuramente il fatto che ci sono queste tre partite che saranno le tre finali per noi, quindi ormai non c'è più nulla da perdere, entreremo in campo come se ogni partita fosse l'ultima e niente, proveremo a portare a casa il risultato.